Buio pesto in via Antonio De Luca, la strada che a Ischia Ponte attraversa la popolosa zona di Casalauro. Sono ben tre sere consecutive che, probabilmente per un guasto all'impianto, l'illuminazione pubblica è completamente assenta e con conseguenti gravi rischi per pedoni, automobilisti e scuderisti che la attraversano. La cosa incredibile è che, nonostante le segnalazioni e le sollecitazioni avanzate in questi giorni dal PCML, a Casalauro non si è ancora provveduto a ripristinare la pubblica illuminazione e non si è pensato neppure di piazzare, lungo il suo lungo percorso, dei punti luci provvisori. Assurdo, ma veramente per intervenire aspettiamo prima che ci scappi un incidente. Ma stiamo scherzando. Possibile che l'amministrazione comunale non sia nemmeno in grado di piazzare qualche faro provvisorio in via Antonio De Luca. Intanto, dinanzi all'assurdo immobilismo amministrativo, ieri sera tardi abbiamo segnalato i gravi pericoli derivanti dall'oscurità in via Antonio De Luca anche alla Polizia di Stato, i cui agenti con una volante si sono immediatamente recati in zona per verificare la situazione. La cosa che rappista di più è che, mentre da tre giorni a questa parte non è stata ancora ripristinata la pubblica illuminazione, Casalauro continua ad essere socialmente abbandonata, con erbacce e sporcizie che abbondano ovunque. E siamo proprio in via Antonio De Luca, come potete vedere sulla mia destra, allo stesso modo, così com'è nel lato opposto. La strada è ricorma di erbacce. E mentre l'oscurità avvolge il quartiere, l'erbacce e la sporcizia fanno ovunque brutta mostra di sé, l'amministrazione comunale del sindaco Enzo Ferrandino è quotidianamente presente nel quartiere schiavontese solo per elevare multe attraverso la giusta repressione della sosta selvaggia, ma senza avere la volontà politica di trovare al tempo stesso una soluzione al dramma della totale mancanza di parcheggio, così come proposto da tempo dal PCML. Ai cittadini che giustamente tutti i giorni lamentano l'abbandono sociale di Casalauro e il dramma della mancanza di posti auto, diciamo di ricordarsi alle prossime elezioni amministrative del trattamento riservato ororo dagli amministratori in carica. Il partito comunista italiano marxista-leninista, guidato dal segretario generale Domenico Savio, unica forza politica di opposizione nel paese, nonostante non ancora presente in consiglio comunale, oltre all'immediato ripristino della pubblica illuminazione, chiede con forza la pulizia di via Antonio De Luca e la soluzione della mancanza di parcheggio nell'intera zona.